e siamo arrivati all'appuntamento quotidiano con le pillole di 120 in questa giornata particolare di venerdì 22 novembre quindi il via ufficiale a partire da oggi alle festività natalizie nella zona nella città di Taranto e quindi tante tantissime le iniziative che in giro per la città tra pubblico e privato propongono appunto le esquisitezze delle relative alle pettole che sicuramente troverete in molti angoli della città noi però intanto vogliamo evidenziare qualche evento che si terrà nella giornata di oggi come sempre l'invito è quello a inviarci le mail per farci conoscere da parte degli organizzatori quelli che sono gli eventi nella città e nella provincia di Taranto ma anche nella regione in tutti i campi affinché possiamo dare notizia attraverso questa pillola quotidiana e poi attraverso la trasmissione in diretta che si tiene il lunedì dalle 17 alle 18 qui su Studio 100 TV partiamo quindi con un appuntamento appunto questo molto atteso di Santa Cecilia una giornata ricca di significati e di tradizioni e partiamo dall'evento che si terrà al Conservatorio Statale Giovanni Paesiello che appunto organizza un concerto aspettando Santa Cecilia che si terrà nel chiostro dell'ex convento di San Michele alle 17 e 30. Chiaramente è un concerto che unisce richiamo delle tradizioni alla modernità del Conservatorio quindi giovani musicisti che appunto porteranno questa tradizione musicale di Santa Cecilia in questo connubio con la modernità ieri poi rimanendo anzi in Città Vecchia abbiamo parlato con Fabrizio Iurlano di quello che è l'evento delle 19 e 30 che si terrà presso il Palazzo Pantaleo a Taranto Vecchia, Santa Cecilia, suoni e danze, devozione popolare tra sacro e profano anche qui ovviamente una serie di miscellanea tra musica, tradizione e culinaria, racconti che ovviamente è proposto sotto legida dell'organizzazione della Taranto Grantura a cura del Museo Etnografico Alfredo Maiorano di Taranto parliamo adesso invece di musica al Teatro Orfeo questa sera un grande della tradizione tradizionale musica italiana sto parlando di Michele Zarrillo con 5 giorni da 30 anni, 2 ore di spettacolo per ripercorrere la sua carriera ovviamente il titolo è ispirato a uno dei suoi maggiori successi spostandoci poi verso la zona di Porta Napoli al Mercato Nuovo, in via Mercato Nuovo una social dance in collaborazione con l'associazione B Swing per una Santa Cecilia Swing quindi i ballerini di swing dell'associazione si ritroveranno a Mercato Nuovo per festeggiare insieme al ritmo di swing appunto questo Santa Cecilia dall'altra parte poi invece della strada in via Niceforo Foca 28 il primo appuntamento annuale con il Taranto BlaBla Language Exchange che cos'è? è un aperitivo multilinguistico multilingue nel senso che è veramente unico nel suo genere tante persone provenienti da vari paesi del mondo che si ritrovano a Taranto e che a Taranto ci lavorano per motivi personali o per lavoro si ritrovano a Spazio Porto per parlarsi tra di loro nella loro lingua madre e questo per chi non lo ha già frequentato questo aperitivo è davvero un'occasione per mettere alla prova la propria conoscenza di lingue straniere e anche per misurarsi con coloro che invece sono lingua madre e hanno insomma in questo scambio linguistico ci riescono molto bene è davvero un evento molto particolare che parte alle 19 e 30 e subito dopo invece ci sarà il concerto di un gruppo di giovanissimi ragazzi di Bari loro sono i Red Room che quest'estate scorsa hanno insomma due anni fa sono stati protagonisti del palco del Medimex e torniamo invece in città tra le varie pettolate anche quella proposta dal Sonora col Santa Cecilia Night Party al quale si unisce anche la festa degli universitari quindi sicuramente tanti e tantissimi saranno gli appuntamenti questi soltanto una parte quindi noi di 120 vi auguriamo una buona Santa Cecilia e l'appuntamento è a domani Grazie a tutti